e per l'attivazione io sono il 5-6 quella partita di Atalanta Odinese in cui è finito 2-0 con la vittoria dell'Atalanta ragazzi nel primo tempo l'Atalanta Odinese era a finire riparitando le squadre che partono da l'Atalanta ha provato a trovare il gol del vantaggio ma non è riuscito l'Udinese ha provato anche lei con il gol a trovare questa rete e ragazzi non ci sono riusciti poi all'inizio del secondo tempo i carnici hanno provato di nuovo a trovare questa rete ma l'Udinese ha difeso la 2-4 fino all'ultimo poi alla fine della partita all'ottandodesimo ha segnato al calcio con il calcio di rigore concesso dall'Atalanta Martin Derun che ha concesso 1-0 e quindi raga si riporta all'1-0 poi all'ottandodesimo ha segnato Mario Pagalizio che ha concesso il 2-0 e prima il gol del 2-0 ragazzi quindi l'Atalanta come è stato stabilito andrà a 3 punti quindi si porta al quarto posto cioè in zona Champions che ha in casa sia dal dal dall'Inter dalla Roma e dal Milan e dal Milan che ho messo al settimo posto quindi vedremo la settimana prossima ormai come sappiamo la Roma l'Atalanta e l'altro squadro con il Torino che stanno adesso che sono in lotta per la Champions ragazzi quest'anno la Champions la stanno lottando di brutto come l'anno scorso se l'avete stato ricordate tra la Sint e che l'avete stato in avento l'Inter e ragazzi se la stanno lottando proprio di brutto quest'anno questo è un'ampionato è pieno di lotte mi sta piacendo un botto un botissimo ragazzi spero che l'Atalanta se la merita perché ragazzi perché se la merita ragazzi perché ragazzi in queste stagioni l'Atalanta se vi ricordate è una partita molto molto buona poi è caduta allora ritorno io e poi ha ritrovato se stessa ha ritrovato se stessa ha ritrovato la speranza e io non pensavo che arrivasse a questo punto e sono contento non è una notazione sono contentissimo e ragazzi i cladinesi gli uomini di Tudor non trovano ancora certi dei punti fondamentali per la salvezza quindi ragazzi vedremo nella prossima cosa che accadrà per il futuro dell'Urinese quindi l'Atalanta come adesso in Milano dovrà fare un grande scalone per recuperare il quarto posto e confermarsi oppure quest'anno o si prenderà l'Europa League che forse se Torino continuerà a vincere sarà destinata a Torino quindi l'Atlì per lo vedo di tutto noi ci vediamo forse domani con Fiorentina Sassuola e quindi a vedere tutto ciao ciao